C'è stata la chiusura per quattro settimane del canale, della messa in asciutta di tutto il tratto che va sostanzialmente dalla rotatoria di Sant'Orso fino alla centrale idroelettrica della Liscia e questo per quegli interventi di manutenzione e pulizia che hanno riguardato anche il verde pubblico non solo l'alveo e gli argini che erano stati presentati circa un mese e mezzo fa per un impegno di spesa da parte di Enel Green Power significativo di oltre 70.000 euro Con la messa in asciutta del canale però sono emersi le necessità nuove in particolare per quanto riguarda gli argini lungo il viale Kennedy in particolare in questo caso c'è la necessità di consolidare almeno 50 metri di alveo, di argine e soprattutto di fare dei lavori importanti di manutenzione e ristrutturazione del ponticello che collega il campus scolastico all'area del Pincio quindi si è data indicazione attraverso un'ordinanza, l'ordinanza sindacale numero 5 del 9 febbraio di quest'anno a Enel Green Power di provvedere per una serie di interventi con alcune caratteristiche tecniche ben precise per mettere in sicurezza questo tratto ovviamente questi sono lavori straordinari nel senso non previsti inizialmente che si sono resi indispensabili dopo che la messa in secca del canale ha messo in evidenza alcuni ammaloramenti importanti di queste strutture e sono interventi che richiederanno circa 30 giorni di lavori aggiuntivi però sono interventi che riteniamo a questo punto importanti non solo ovviamente per la sicurezza ma anche per il decoro di questo tratto e visto che l'intervento che è stato messo in essere da Enel Green Power in questo mese è un intervento importante, il più importante negli ultimi dieci anni non solo per spesa ma anche per articolazione dell'azione complessiva lungo tutto il canale Albani abbiamo ritenuto che fosse indispensabile aggiungere anche questi interventi e fare in modo che l'azione complessiva che quest'anno viene compiuta sia risolutiva per molti anni a venire Un intervento anche che riguarda la parte finale di Viale Kennedy sul curvone dove c'erano state delle fessurazioni, delle colature d'acqua anche lì Enel interverrà? Sì assolutamente, quello era uno degli interventi già previsti proprio per la manutenzione degli argini in particolare nella curva di Viale Kennedy all'incrocio con Via Persiutti un intervento che si è reso necessario dopo le segnalazioni di quest'estate e che è già preventivato, che nei prossimi giorni verrà realizzato a questo si aggiungono quelli di Viale Kennedy che invece appunto sono interventi di straordinaria manutenzione Grazie a tutti, grazie a tutti Grazie a tutti